Nessuna nuova normativa per le auto in doppia fila nel centro di Bari, ma semplicemente un inasprimento di controlli che già sono competenza degli ausiliari della sosta. Della sosta e non del traffico, dal momento che solo i primi sono dipendenti Amtab. L'azienda municipale dei trasporti urbani precisa che gli ausiliari della sosta possono elevare contravvenzioni identiche a quelle dei vigili urbani per le auto nelle loro zone di competenza, e cioè quelle parcheggiate all'interno delle strisce blu senza grattino o con grattino scaduto, e quelle in doppia fila o in prossimità di intersezioni, che impediscono alle auto l'entrata o l'uscita in area blu. Per strada c'è molta confusione tra automobilisti in fuga dalla doppia fila e addetti che dichiarano di non aver avuto indicazioni dai propri superiori. Poca voglia di commentare sia da parte dei vigili, che auspicano piuttosto un ampliamento del loro organico in una città che a parità di abitanti ha 300 unità in meno di Firenze, sia da parte degli ausiliari, eccettuato un esponente in borghese. Io so che c'è una sentenza della Cassazione che l'ausiliario può agire solo sulle strisce blu. Solo in qual caso una macchina della strisce blu non può uscire, noi dobbiamo sanzionare e chiamare il carattrezzo. Io ho letto questo fatto qui che l'assessore ci ha dato questa disposizione. Grazie.